Parliamo adesso di coronavirus in Puglia, resta stabile il rapporto tra test analizzati e positivi scoperti. Anche se ieri, assieme al Piemonte, la nostra regione ha fatto registrare un nuovo numero di ingressi nelle terapie intensive. 11 Puglia e Piemonte sono state seconde soltanto a Lazio, che ne ha registrati 18. Intanto preoccupa la variante inglese, è stata accertata in 16 comuni, tra questi c'è Santeramo. Il sindaco ha chiuso anche due asili del paese, predisponendo la didattica a distanza. Intanto prosegue la campagna vaccinale, allora il dettaglio nel servizio. Resta stabile al 10% il rapporto percentuale in Puglia tra tamponi processati e positivi al coronavirus scoperti. Secondo i dati contenuti nell'ultimo bollettino diramato dalla regione, dei 7.274 test analizzati, 732 hanno dato riscontro positivo. Più di un terzo dei nuovi casi è stato accertato in provincia di Bari, che ha registrato 311 contagiati in più in 24 ore. Altri 116 casi sono stati accertati in provincia di Taranto, 115 in quella di Foggia, 77 nel Brindisino, 64 nella Batte e 44 nel Salento. Sei casi sono relativi a residenti fuori regione. Gli attualmente positivi sono più di 41.600, di cui 1.520 ospedalizzati. E la Puglia, assieme al Piemonte, è stata ieri la seconda regione in Italia per nuovi ricoverati nelle terapie intensive. Sono stati 11. Peggio, ha fatto solo il Lazio, con 18 nuovi ingressi. Il numero complessivo di malati covid ricoverati nei reparti intensivi pugliesi è 161. Il tasso di occupazione dei posti letto è del 29%, sotto la soglia di criticità stabilita dal Ministero della Salute, ma più alta di 6 punti percentuali rispetto alla media nazionale. Scende al 38% il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti in area non critica covid, ovvero malattie infettive e pneumologia. I dati sono forniti dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e sono aggiornati a sabato, quando il 13,6% dei 1.819 accessi e pronto soccorso ha riguardato sospetti casi covid. Nelle ultime ore le vittime della covid sono state 17, 6 in provincia di Foggia, 4 in quella di Taranto, 3 in quella di Brindisi e 2 in ognuna delle zone di Bari e Bat. Conforta il dato dei guariti che da inizio epidemia oggi sono quasi 90.000. Tra coloro che si sono negativizzati ci sono anche gli ospiti della RSA di via Russo Lillo di Mola di Bari, in cui era stato accertato un cluster con 46 positivi. Oggi non ci sono più casi di contagio. Sale invece il numero dei positivi a Santeramo in Colle, uno dei 16 comuni pugliesi in cui sono state accertate infezioni provocate dalla variante inglese del virus. I 5 casi di contagio verificati in paese hanno spinto il sindaco Fabrizio Baldassari a predisporre che anche per l'asilo Monsignor Rago e per l'istituto paritario San Giovanni Battista della Sal le attività didattiche si svolgano a distanza. Continua intanto la campagna vaccinale. In Puglia è stato somministrato l'80,6% delle oltre 200.000 dosi assegnate. È quanto rende noto il Ministero della Salute aggiornando il dato alle 8 di oggi. Si tratta di quasi 162.000 somministrazioni. Più di 93.000 dosi sono state somministrate a donne, quasi 69.000 uomini. La fascia d'età più vaccinata è compresa tra i 50 e i 59 anni. Agli ultranovantenni sono andati 4.308 vaccini, mentre 105 dosi sono state destinate a ragazzi di età compresa tra i 16 e i 19 anni. E sono più di 72.000 cittadini pugliesi over 80 che hanno prenotato la vaccinazione anti-Covid. È stato raggiunto oltre un terzo del target previsto dalla campagna, ha detto l'assessore regionale della sanità Pierluigi Lopalco.